C'è qualcosa che brulica, che scalpita, di zolla in zolla, di collina in collina, qualcosa che non potete più far finta di non sentire, una luce che è arrivato il momento di guardare, abbiatene il coraggio, è la luce del sole basso che illumina i tetti, grappoli, la polvere della strada e i raggi della mia bicicletta. Non ti piace fare fatico? Eh, ma magari sai com'è, no? Fallo, prova, vai. Non posso più tempo a salutare gente che non a tenere le mani sul volante. Perché lui è entrato col cavallo dentro qua. Ma veramente? Sì. E io non lo devo mangiare, è venuto giù la palla. E ora di urlare a tutto il mondo, siamo la terra dei 190 tramonti. Siamo rimasti addormentati per decenni, ma ora siamo svegli. Venite, venite a battere i piedi sulla nostra terra. E' stata una festa meravigliosa perché sono stati qua i bambini che giravano. Si parla di amore sicuramente, ma si parla anche tanto di vita quotidiana. Qua c'è una ricchezza strana, no? Ma dov'è che esiste una provincia con sette centrizona? E' vero, siamo sparpagliati. Però il nostro tempo adesso è qui, no? Nostro, non nostro. Nostro di tutta la comunità. Ma lei vuole sapere troppo? Lo sapevi, erano i vecchi. Sì. Bellissimo. Ma mi piace sto ragazzo. Ma io non ti lascio più andare a casa. Ma infatti io mi fermo qui. Ma perché vuoi? Ma cosa mi dà? Perché... perché voglio... Perché voglio che... .